5 ragazzi con esperienze musicali diverse nel gennaio 2018 si uniscono per dare vita ad un nuovo progetto musicale dal titolo apnea presentiamo gli apnea un gruppo pop rock marchigiano nato nel gennaio 2018 una band composta da cinque elementi francesco antonelli basso luca magrini chitarra molinari andrea batteria alessandro guarandelli voce marco molinari chitarra parliamo di un gruppo pop rock marchigiano indipendente che si ispira alle grandi rock band italiane come litfiba e nigrita mantenendo allo stesso tempo un sound fresco e originale siamo deciso di improntare questo discorso musicale scrivendo cose nostre insomma è nato tutto quasi per caso abbiamo visto che comunque poteva funzionare anzi sta funzionando siamo contentissimi di quello che stiamo facendo dopo poco abbiamo abbiamo inciso un ep di sei brani e con quello li abbiamo fatto un po di concorsi interessanti nel centro italia abbiamo solcato palchi teatri il nome apnea nasce perché comunque quando ci siamo visti inizialmente abbiamo detto artisticamente come come siamo siamo in apnea nel senso che eravamo comunque no tutti e quindi così parlando abbiamo detto cavolo però apnea potrebbe essere anche un bel nome per per la band e ce lo siamo tenuti il gruppo marchigiano nel corso degli anni ha vinto vari contest tra cui la 32esima edizione di rock targato italia nel 2021 la band si è esibita sul palco del teatro ariston di sanremo rappresentando la regione marche per le finali nazionali i cinque ragazzi originari di montelabate hanno tanta voglia di raggiungere nuovi traguardi magari già con loro un nuovo singolo dal titolo adrenalina un brano rock pop dal ritmo deciso e incalzante che ormai da diversi giorni è presente in radio e nei vari digital store adrenalina era la situazione di cui avevamo bisogno avevamo bisogno effettivamente di adrenalina è nato il brano e subito dopo il periodo del lockdown e quindi come tutti potete ben capire è nato dopo un periodo di stallo totale e volevo rappresentare nella scrittura la prima notte e pensare a quello che poteva essere rivivere un concerto live dal vivo quindi abbiamo cercato di immaginarci descrivere sia musicalmente che col testo le sensazioni e l'adrenalina che la musica comunque ci trasmette sempre quali sono i progetti futuri per apnea? allora siamo appena usciti dallo studio abbiamo terminato di registrare cinque inediti tra cui adrenalina e quindi a cadenza puntiamo nei prossimi mesi a farne uscire ogni tre quattro mesi un singolo e appunto con il relativo video e alla fine della pubblicazione di questi cinque inediti uscirà sicuramente un EP che poi spingeremo per condividerlo con voi e farvelo di nuovo ascoltare tutto insieme vedo maschere rischio di impazzire credimi manca l'aria vedo maschere rischio di impazzire rischio di impazzire rischio di impazzire